Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa mi raccomando iscriviti al canale, è gratis se vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo delle SSC Napoli e non solo. Signori, conferenza stampa di Luciano Spalletti pre-Napoli-Bologna. Ragazzi, andiamo a leggere insieme la conferenza stampa che dura da 36 minuti. Luciano Spalletti ha detto che il futuro Napoli si valuta anno dopo anno. Come sappiamo, Luciano Spalletti ha due anni, più opzione a suo favore per il terzo anno. Si può giocare meglio di così, altrimenti l'euforia ci travolge. Dombele dal primo minuto, Ostikart Vangetus, dipende. Gestione dell'attacco valutiamo. Andiamo a leggere proprio l'intervista, scusatemi, dalla conferenza stampa di Luciano Spalletti. Gestione dell'attacco, abbastanza facile. Si va in campo in 11, ma le rose sono di 24-25 giocatori. Ci sono posizioni in cui magari è importante avere questi cambi. La possibilità di nuove risorse senza Laspatore e Simeone, mancando Osimena, sarebbe stata dura portare a casa tante partite. Valutiamo di volta in volta e teniamo conto della forza dei calciatori. Quindi ragazzi, il buon Luciano Spalletti lo dice, è meglio avere più giocatori possibili in attacco che come l'anno scorso. Come sapete ragazzi, l'anno scorso c'avevamo solo Petagna. Poi gli amici avevi Mertens, ma Mertens non è che poi tutto sommato abbia fatto una stragione mostruosa come ci si aspettava da lui. Anzi, proprio Luciano Spalletti era più intenzionato a far giocare Petagna che Driss Mertens. Come detto, è meglio avere così tante scelte, e non è che hai scelte di serie B, con tutto il rispetto di Andrea Petagna, naturalmente ragazzi. Però ragazzi, tu in panchina c'hai Raspadori, Simeone, Simeone che ha fatto 17 gol lo scorso campionato. Quest'anno, tutte le volte che rientra dalla panchina, ragazzi, è sempre stato decisivo, lo possiamo dire tranquillamente, cosa che l'anno scorso non era possibile perché c'era Petagna. Con tutto il rispetto per Andrea Petagna, però ragazzi, quest'anno con quelle tante alternative che tu hai, perché poi volendo Raspadori lo puoi far giocare anche al posto di Inzerischi, un sottopunta, non c'è nessun problema. E fai giocare Simeone prima punta. Ecco, meglio avere quelle difficoltà a dire, ehi, oggi chi faccio giocare? Bene, il Bologna gioca in questo modo, metto Simeone per le palle lunghe. Voglio giocare palla a terra, metto Raspadori. Voglio fare una partita fisica, metto Simeone. E ragazzi, questa è una grande qualità che ha il Napoli di quest'anno e che gli anni passati non ce l'aveva. Insiglie del Bologna. Ogni partita è un viaggio verso l'ignoto. La bravura è renderlo prevedibile portando la palla in cima al campo. Questo purtroppo, se non lo fai ogni volta, non sei stato nulla. Il calcio è così. Devi ripartire e fare sempre le stesse cose. Può sembrare faticoso ed è insopportabile, ma per la mia squadra mi sembra abbastanza eccitante. Mi sembra che la squadra sia viva nello stare in cima il più possibile. Quindi elogi alla squadra, anche qui con il Bologna, dice che ci saranno degli insigli con il Bologna, ma tutte le partite, una nuova partita, ha sempre delle incognite. Ed è giustissimo, ragazzi, perché ogni partita ha una sua storia. E il Napoli nella storia si ritrova bene, perché mettiamo la partita con il Milan, la partita con il Liverpool, la partita con i Rangers, quella che vi pare. Ogni partita aveva una storia a sé. Ecco, domani ci sta che con il Bologna, il Bologna entra in campo, te ne sbatte quattro in faccia e tu dici come è possibile che ho segnato dieci gol fra andate e ritorno all'Ajax? Ragazzi, ogni partita ha una storia a sé. Parla anche di Demme, ragazzi. Anzi, vorrego prima andare a recuperare quell'altra domanda. Allora, allora. Sostituire Anghissà e Rachmani. Abbiamo quattro calciatori forti nei due centrali. Quindi, ragazzi, Anghissà potenzialmente ci può giocare, al posto di Anghissà può giocare sia Don Belé, mostruoso, e sia Diego Demme, perché Demme è stato recuperato a pieno organico. Quindi Demme sarà a disposizione. Ora, non so se sarà a disposizione per la partita contro il Bologna, anzi, dovremmo vedere un pochino i convocati da Luciano Spalletti. Stessa cosa vale per Rachmani. Hai sia Ostikard che Juan Jesus, ragazzi. Quindi c'hai quattro giocatori di livello che possono giocare in quella zona di campo, sia in difesa e sia a centrocampo. Kim, sul centro-destra della difesa, quando è arrivato gli ho chiesto della posizione in difesa. Ero preoccupato perché giocava centro-sinistra. era abituato a giocare a destra, ma mi diceva che gli chiedevo di giocare palla, che non sapevo col sinistro cosa sarebbe potuto succedere, perché era poco abituato. Ha avuto un, due, tre momenti così così contro l'Ajax, però quando domenica gli ho detto che avrebbe giocato a destra, ha tirato un sospiro di sollievo. Demme sta benissimo, ha recuperato in pieno, e meno male, con le cose che succedono siamo contenti di averlo recuperato. Ragazzi, questa è l'importanza di avere una rosa lunga e con giocatori, ragazzi. E vi ripeto, con giocatori di forti, perché ragazzi, Demme è un giocatore fortissimo. Io lo reputo, lo reputo veramente forte, anzi, e non sfigura nel centrocampo del Napoli, Demme. Con tutto che c'hai, Anghissadon, Belè, Lobotka e Zelischi, ragazzi. Quindi è un signor centrocampista Diego Demme. Ora, bisogna vedere poi se Luciano Spalletti lo farà giocare in alcune partite, ma io penso di sì. E occhio anche a Gaetano, perché nelle ultime uscite Luciano Spalletti ci sta puntando molto, 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 molto. Si può giocare meglio di così? Sì, perché delle cose le abbiamo sbagliate contro l'Ajax. Se si pensa che non si possa giocare meglio, siamo travolti dalle euforie e dell'aver toccato il massimo. Quindi lui dice, non è che ora abbiamo fatto la grandissima prestazione con l'Ajax, siamo arrivati al cumbre della nostra espressione di calcio. No, dobbiamo fare ancora meglio proprio per far vedere che possiamo giocare molto, ma molto meglio. E ragazzi, questa è una cosa fondamentale, perché lui dice, per ora non abbiamo fatto niente, quindi si può migliorare sul livello tattico, sul livello difensivo. Quindi è una cosa che a me piace, questa cosa di Luciano Spalletti. Lo dice anche lui, abbiamo raggiunto grandi risultati finora, ma al campionato sono tutti lì in pochi punti. È vero ragazzi, perché Napoli ha due punti di vantaggio su quell'altro, poi c'era tre, a parte l'Inter e la Juventus, che non sbaglio abbiamo dieci punti di vantaggio, forse qualcosa in meno sull'Inter. Però, come detto, basta che perdi una partita, o pareggi una partita e ti ritrovi al secondo o al terzo posto. Ecco, questa è una cosa che mi piace molto, perché devi giocare sempre sul filo del rasoio, devi sempre trovare una partita perfetta, e quindi questa cosa è molto, ma molto bella. Poi, dove possiamo arrivare, gli chiedono a Luciano Spalletti. Non si sa dove si arriva, colui che conosce il proprio obiettivo si sente più forte e più sereno. Il nostro obiettivo è vincere le partite, ne abbiamo vinte diverse, e questa cosa ci dà autostima e tranquillità. essere preparati in maniera corretta per la partita successiva. È da lì che però si deve passare per capire dove si può arrivare. Ogni partita ci darà risposte. È difficile prevederlo ora. E io aggiungerei che a Luciano Spalletti, io se ero in te, gli avrei risposto. Ma il Napoli non deve arrivare da nessuna parte. Il Napoli deve arrivare al settimo posto, come avete detto voi giornalisti. Io avrei risposto in questo modo. Poi lo sappiamo, Luciano Spalletti gli piace articolare le domande a modo suo. Spalletti, eccitante essere la squadra da battere? Il calcolo lo facciamo su noi stessi. Ci crediamo noi quando siamo forti. È lì la cosa stimolante per essere poi pronti in base a chi ci passa davanti. La consapevolezza di avere una base, un coraggio di esibire di partita in partita. Poi si vede gli altri se saranno all'altezza o superiori. Questa è un po' la cosa come l'anno scorso, che il Napoli quando doveva venire è venuto molto, ma molto meno rispetto al Milan e anche rispetto all'Inter, ragazzi. Io lo ripetisco e lo ripeto. Il Napoli l'anno scorso lo scudetto se lo poteva vincere a mani in basse. Ahimè, non ci siamo riusciti. Però ho quell'idea nella mente che rispetto alla passata stagione siamo veramente più forti. Ma forse di testa, perché questo Napoli qui non ha paura di imporre il proprio gioco. L'anno scorso se ti faceva una partita fortissima, per farvi capire, poi la domenica dopo andava in campo e diceva che ho vinto 4-0 la prima, poi vado a gioco contro di loro e gliene vergò 4-5, poi prendevi il gol e tu non riuscivi proprio a ristabilire quella cosa mentale. Ecco, in questo Napoli non lo vedo questa cosa. Siamo andati sotto in diverse partite, in pochissime partite, a dire la verità, e siamo sempre riusciti a ripaltare il risultato della partita proprio per la qualità che ha questo Napoli, l'intelligenza tattica che ha questo Napoli e soprattutto per la voglia che hanno questi ragazzi di dimostrare a tutti quegli altri che potremmo essere molto più forti di quegli altri. La qualità più importante del Napoli oggi è la voglia di contagiarsi dalle forze dei compagni e di mettere rincorse e di mettere rincorse per venire ad aiutare la linea difensiva. Ho visto robe bellissime con l'Ajax, è vero perché c'era il buon Lozano, il buon Kvara ragazzi che si facevano un mazzo esagerato pur di tornare in difesa e di andare a coprire. Questa cosa è successa anche su Raspadori. Raspadori ha coperto la fase difensiva in modo impeccabile. Poi, 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 i dubbi degli opinionisti su di me spesso si va dietro a tante cose. Non dovete fare confusione tra il mio carattere e il mio atteggiamento. Uno dipende da me, uno dipende dagli altri. Il mio carattere è altro. Si continua a dire che faccio casino tanto per dire un brodino riscaldato dopo situazioni che ho messo a posto e non ho determinato. Io penso che si riferisca e continuo a riferire quelle cose di Totti, di Icardi e Mertens. Ragazzi, basta. La voglia di costruire il Napoli anche nei prossimi anni? La risposta è sempre la stessa. Si valuta un anno per volta perché è corretto così. Signori, questa era la racchiusa in circa 12 minuti la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Ragazzi, ho letto di un Luciano Spalletti molto convinto del suo Napoli. Ecco, non vorrei che questa convinzione ci portasse a dire siamo la squadra più forte d'Europa, siamo la squadra più forte d'Italia, dobbiamo spaccare il culo a tutti e poi, perché poi lo sappiamo, serve calma. Ora serve veramente calma e determinazione perché la partita con Bologna secondo me non è semplice, anzi, se non sbaglio, loro hanno Tiago Motta in banchina. Ecco, lo stesso allenatore l'anno scorso fu uno degli artefici di questo non vincere lo scudetto l'anno scorso, proprio con lo Spezia, se non sbaglio. Quindi, vaiù, prendiamoci questa piccola vendetta nei confronti di Tiago Motta e portiamo a casa questi tre punti perché ci sarà Udinese-Lazio, Lazio-Udinese, scusatemi, e questa è una partita fondamentale perché puoi allungare su una delle tue dirette concorrette. Non sono dirette, però ci hanno 20 punti e sono a meno 3 da te. Quindi, vaiù, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Napolis 1926 se ancora non lo avete fatto. È gratis. Sempre e comunque, forza Napoli, da vostro Napolis 1926. Ciao, vaiù. Grazie. Grazie.